Ebbene tutto bloccato dai! Eccolo qua! Eccolo! Come stai? Grazie Bomber! Stai bene? Ciao! Dove sei? Santiago! Ok anche lì tutti in casa vero? Tutti chiusi da un mese 40 giorni già Eh è lunga eh! Non passa più! Lui è tuo figlio? Sì, il più piccolo! Dicono che mio! Non sembra mai mio! L'ho parlato io! Infatti il più lungo! Tutto bene lì? Dimmi, dimmi, dimmi! Tutto bene lì? Sì, sì, un casino per adesso, un casino! Ormai non si giocherà più fino a agosto! Eh sì, non si sa ancora, non si sa ancora! Noi dobbiamo aspettare come reagisce la gente lì in Europa prima e in base a quello ci muoviamo anche noi! Ma Salas è lì anche lui a Santiago? Sì, lui è proprietario di una squadra di Serie B adesso, Temuco! Il tuo cazzo di Salas eh! Tutti i soldi che hai guadagnato! Continua a farli eh! E' bravo! Ora lo chiamo in questi giorni! Ora lo chiamo! Voglio far raccontare... Lui ce l'ha! Lui li ha fatti i soldi lì eh! Minchia! Ora voglio raccontare quello che combinava la Lazio o Salas! Ora quando lo becco, nei prossimi giorni lo racconto! Fai, fai la diretta con lui che è simpaticissimo dai! Va bene Pini! Ci vediamo dai! Ci sentiamo presto! Ciao, grande! Ciao! Eccoci qua, siamo a 30.000 dopo 10 minuti! Bah, va bene!